La festa della Repubblica Italiana si celebra come ogni anno il 2 giugno e ricorda il referendum con cui gli italiani furono chiamati a votare nel 1946 per scegliere la forma di governo dell'Italia dopo la fine del fascismo, repubblica o monarchia. Oggi il 2 giugno viene celebrato come una festa nazionale, ma all'epoca il clima era tutt'altro che festoso. L'Italia era appena uscita dalla seconda guerra mondiale e il voto si svolse tra le macerie dei bombardamenti alleati e quelle delle demolizioni dei nazisti in ritirata con centinaia di migliaia di italiani ancora sparsi per i campi di prigionia in tutto il mondo, intere province sotto governo militare straniero e un clima che sembrava vicino a quello di una guerra civile. Alla fine gli italiani scessero la Repubblica. Ci sono state delle eccezioni in cui il 2 giugno non è stata celebrata la festa della Repubblica che esiste dal 1948. Per molti anni e per ragioni economiche fu resa una festa mobile e fatta ricorrere la prima domenica di giugno. Lo si decisa nel 1977 a causa della crisi economica per non perdere un giorno lavorativo. Nell'anno precedente, il 1976, la parata militare era stata annullata a causa del terremoto delle Friuli Venezia Giulia. Nelle 2000 il governo Amato, su iniziativa del Presidente della Repubblica Carlo Azzeglio Ciampi, ristabilì la data del 2 giugno insieme alle celebrazioni ufficiali. I risultati del referendum furono annunciati il 18 giugno 1946 e fu quel giorno che la Corte di Cassazione proclamò ufficialmente la nascita della Repubblica Italiana. Lo spoglio del risultato mostrò chiaramente che l'Italia era divisa in due. Nel nord Italia la Repubblica vinse in quasi tutti i centri urbani principali, mentre al sud il voto fu quasi ovunque prevalente per la monarchia. A Napoli 900.000 voti per la monarchia contro 250.000 per la Repubblica, a Palermo quasi 600.000 contro e 380.000. A Roma i voti per la monarchia superarono di poco quelli per la Repubblica, circa 30.000 schede. Non ci fu alcun broglio, anche se la leggenda è ancora molto diffusa. Storici ed esperti che hanno analizzato i risultati con tecniche moderne concordano nel dire che il voto si svolse in maniera tutto sommato regolare. Un distacco di quasi due milioni di voti è difficilissimo da creare artificialmente, richiede la complicità di migliaia di persone e lascia dietro di sé una lunghissima scia di prove. Grazie a tutti.